questo in questo evento vorremmo chiacchierare col professor maeda del suo saggio i treni d'accoglienza qualche parola di presentazione su bruno bruno è torinese è uno storico si si occupa di storia contemporanea soprattutto occupandosi di temi relativi al fascismo e alla storia del del prime del secondo dopoguerra è l'unico docente in italia se ho letto bene se ho studiato bene ad avere una cattedra in cui la specializzazione è storia dell'infanzia e numerosi sono i suoi saggi pubblicati con einaudi su appunto la storia dei bambini durante i conflitti bellici oggi appunto parleremo con bruno dei treni dell'accoglienza infanzia povertà e solidarietà nell'italia del dopoguerra dal 45 al 48 aspettiamo magari che ci siano entrino delle altre persone e poi direi che possiamo iniziare bruno tu ci senti bene io sento benissimo buonasera a tutti prima di tutto benvenuto e grazie di aver accettato il nostro il nostro invito grazie a voi allora io leggendo il tuo il tuo saggio o insomma sono molti gli stimoli anche perché è un saggio devo dire ricchissimo di dati date dati spunti effettivamente di riflessione peraltro poi mi sembra estremamente attuale come tema perché insomma il tema dell'infanzia abbandonata dell'infanzia non accompagnata è qualcosa che ci parla purtroppo anche oggi per i numerosi conflitti che infiammano il mondo alcuni di questi geograficamente molto vicini a noi tutti direi gravi diversamente non nel senso più o meno gravi ma insomma tutti diversamente gravi perché quando si creano situazioni di questo genere ecco evidentemente non c'è non c'è da stare allegri però questa di cui parliamo oggi e spero che possa come dire ispirare anche un po di un po di speranza perché viviamo di nuovo in tempi bui mi pare è una storia che parla soprattutto di buona politica di un episodio di straordinaria solidarietà e fra l'altro solidarietà in un'epoca in cui non c'erano tante possibilità insomma materiali no di e non è che c'era tanto che avanzava c'era stata una guerra e quindi c'era un topo guerra di cui ci si doveva si doveva occupare per cui insomma con risorse anche economiche abbastanza limitate e quindi la mia prima riflessione era questa cioè malgrado oltre vent'anni di dittatura di fascismo le persone in questa vicenda trovano la capacità di reagire e di e di dimostrarsi umane essere essere umane essere essere solidali magari ci puoi introdurre l'argomento ci puoi spiegare che cosa succede esattamente che cosa sono i treni della felicità sì mi sembra giusto iniziare anche perché le persone che sono qui non necessariamente sanno il contenuto diciamo di questa storia al di là del libro di questa storia vi sentite bene perché ho tolto le cuffie perché mi davano fastidio mi sentite sento bene è una storia che si dipana tra il 1945 e il 1948 poi con degli insomma con delle con una certa vischiosità per ciò che succede poi dopo ma eventualmente poi ne parliamo diciamo che si concentra in questi anni ed è una storia che che riguarda decine di migliaia di bambini un numero difficilissimo a definire ma per ragionevolmente tra i 50 mila e 70 mila bambini che vengono portati organizzati i loro viaggi eh da diverse parti d'Italia prima dal nord verso l'Emilia Romagna poi dal sud poi lo vediamo magari insomma da 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 tanti luoghi dove la povertà era molto forte cioè le periferie delle città nord e poi dopo alcuni luoghi simbolici come Cassino come Napoli come Rò come le periferie romane vengono portati eh eh in varie parti soprattutto in Emilia Romagna ma anche in Toscana e in diverse regioni durante i mesi invernali per consentire a questi bambini di famiglie estremamente povere di passare alcuni mesi eh al caldo mangiando ingrassando eh andando a scuola essendo rivestiti e tutta questa operazione appunto di solidarietà nei confronti di un'infanzia che io definisco orfana povera e profuga come tutte le infanzie che escono dalle guerre le infanzie colpite dalle guerre ovviamente perché non tutti i bambini poi subiscono ma diciamo la parte più eh gravemente colpita dalle guerre ecco questa operazione viene realizzata da eh un soggetto che è Ludi cioè l'Unione delle Donne Italiane che nel dopoguerra che nasce nel quarantaquattro eh e poi si si sviluppa negli anni successivi inizialmente come un'organizzazione ecumenica delle diverse donne della sinistra poi che diventerà sostanzialmente comunista ecco dal Ludi e dal partito comunista. Questa storia si si concentra soprattutto negli inverni e vede una partecipazione straordinaria in realtà di grandi di grandi e piccole comunità nell'aiuto di questi di questi eh di questi bambini. Aggiungo rispetto al tema che dicevi tu ancora una cosa poi magari la riprendiamo e cioè che il tema della solidarietà è un tema come dire che i due temi che in qualche modo attraversano eh questo questa questa storia sono da un lato la solidarietà come una un carattere me verrebbe dire degli italiani poi magari poi mi spiego meglio e eh dall'altra parte eh la bella politica cioè l'idea che ci siano state c'è stata una fase soprattutto in questo paese dopo la guerra in cui tutto sembrava possibile e sembrava anche possibile organizzare dal basso mobilitare le persone a partire da un'idea bella della politica un'idea partecipativa una politica capace di rispondere ai bisogni delle persone e nello stesso tempo di inventare o sperare che un mondo migliore si realizzi. Ecco grazie di questa di questa bella introduzione. Una considerazione mi aggancio a quello che stavi dicendo su anche eh le promesse che questo grande episodio eh di di buona politica eh può effettivamente poteva aver evocato erano anche soprattutto rispetto per esempio a ruolo femminile perché questa è una storia che di fatto se ha avuto successo è stato grazie soprattutto al lavoro non solo all'impegno ma proprio al lavoro fisico no organizzativo di cura eh che è un tema di nuovo molto attuale delle donne perché sostanzialmente questi ragazzini che erano a volte malati spesso sottonutriti con diversi problemi senza voler citare i traumi e tutto quanto insomma si accompagna con un'esperienza bellica soprattutto vissuta in quell'età però insomma venivano visitati prima di questo viaggio lavati puliti messi a posto in qualche modo no questa cosa che per accompagnare durante il viaggio gli si appendeva il eh il cartellino con il nome e poi gli si dava a ciascuno un frutto no eh per accompagnarli durante questo questo spostamento ecco tutto questo è stato fatto grazie anche grazie soprattutto direi all'enorme impegno femminile no eh è chiaro che le donne eh rispetto anche a quell'epoca no eh erano eh le 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 principali eh portatrici del del lavoro di cura per cui insomma c'è c'è poco da stupirsi insomma anche adesso eh più o meno quando si pensa alla cura eh si pensa con uno stereotipo anche spesso a a un ruolo a un ruolo femminile o comunque di cui ci si aspetta in qualche modo ancora che ci si occupino le donne eh però insomma io così leggendo ho avuto un po' la sensazione che in fondo dopo questo episodio e non solo dopo questo alle donne anche il partito comunista abbiamo un po' detto vabbè però adesso tornate a casa perché c'è bisogno che continuiate a fare le madri insomma basta no con sta cosa sì sì però poi dopo continuate pure a fare il vostro lavoro e e questa mi sembra un po' eh politicamente anche un po' una promessa tradita mh tu che cosa che cosa ne pensi? Beh come dire forse vale la pena raccontare due o tre cose no che riguardano appunto il protagonismo delle donne eh vale la pena ricordare che questa storia appunto nasce a Milano da da un gruppo di donne che aveva una stanza che chiamavano la stanza della stufa rossa perché c'era questa stufa in mezzo che riscaldava nell'inverno e alla guida di queste donne la guida nel senso come figura più autorevole c'era una donna straordinaria eh che era Teresa Noce e cioè una una donna che aveva attraversato la metà del novecento con grande impegno politico tra le fondatrici del partito comunista almeno aveva l'età per esserlo in quella fase anche se non è che lei materialmente la fondatrice ma insomma eh operaia nel lotto antifascista costretto andare in Francia a emigrare durante il fascismo poi che combatte in guerra nella guerra di Spagna poi che è arrestato finisce a Ravensburg poi tozzo ecco cosa che oggi non se viene detta lo so che vengo subito attaccato però lo era era la moglie di Luigi Longo eh quindi di un grande dirigente comunista quindi però non era solo la moglie eh Luigi Longo poi la tratterà malissimo tra l'altro sarà vergognoso al suo divorzio nei confronti della moglie eh tutto di nascosto eh ma comunque a di questo eh queste donne vedono cioè vedono che ci sono i bambini poveri nel periferia di Milano e si preoccupano di aiutarli cioè è un'operazione che nasce dal basso da una volontà di donne più usate prima l'espressione che si occupano di cura no? Bisogna eh tenere conto non poco di questa cosa perché eh una delle specificità proprio della resistenza civile delle donne nel periodo precedente è stato proprio quello di valorizzare eh e non di mantenere sulla dimensione privata che era quello in cui il fascismo aveva messo le donne la dimensione della cura ma farlo diventare un carattere della propria resistenza e della propria partecipazione eh quindi di di sfruttare questa cosa e questo è interessante perché le donne in realtà vengono ghettizzate anche dal Partito Comunista non bisogna dimenticarsi che quello è un tempo di una società non così diversa anche oggi ma insomma maschilista trasversalmente non è che i partigiani fossero meno maschilisti dei fascisti però certo all'interno del mondo in particolare comunista e socialista e azionista c'è un'idea dell'emancipazione femminile che era ben diversa e comunque valorizzata. Detto questo eh le donne che cosa fanno? Trasformano quello che il carattere in cui gli uomini anche il Partito Comunista vogliono mettere cioè vabbè siete donne vi occupate di bambini quindi trasformano questa come dire questa marginalizzazione in realtà è un protagonismo politico facendo diventare questa operazione una vera operazione politica tanto che eh questa cosa eh ricordo che nasce proprio nel primo inverno ottuno inverno del quarantacinque poi al nel capodanno del quarantacinque si svolge a Roma in quei giorni il primo congresso del Partito Comunista del dopoguerra il ehm quinto dalla sua dalla sua nascita e in quell'occasione Teresa Noce e altre donne proprio da Milano arrivano sul palco del Partito Comunista del congresso per raccontare quella storia e lì quando c'è la storia si capisce che funziona bene che sta dando risultati il Partito Comunista allora che fino a quel momento aveva detto vabbè se ne occupa l'Udi va bene a quel punto dice no se ne occupa il partito perché a quel punto si capisce che funziona bene quella storia anche perché va detto che ehm l'aiutare i bambini aiutando in particolare al sud aveva una grande caratteristica positiva per il Partito Comunista che sappiamo voleva essere dopo guerra non più il partito solo della classe operai e dei grandi centri eh industriali non voleva essere quello che si chiamava al tempo il partito nuovo cioè un partito interclassista e eh eh nello stesso tempo diffuso su tutto il territorio nazionale quindi cosa c'è di meglio per conquistare le masse un po' tanto monarchiche e e popolari ma nel senso negativo da quel punto di vista del sud se non occuparsi dei loro bisogni primari che sono quelli del mangiare del del dormire del del vestire che per moltissimi bambini era un'esigenza assoluta curarli ricordo solo che a Napoli quando viene fatta un certo punto un'indagine su sulle malattie dei bambini in un ospedale si scopre che il 90 per cento ha una cosa che si chiama tracoma che è una malattia agli occhi che deriva dalla mancanza di vitamine cioè sono sono cose molto evidenti e caratteristiche detto questo per non dimentico la tua la tua osservazione come dire pessimista ma realista anche è in dubbio che questa vicenda sta dentro a quel cuore politico a quella stagione politica di grandi speranze ma non soltanto per le donne grandi speranze diciamo per il progressismo in italia e che poi col 48 conosce una sconfitta radicale e anche per le donne il 48 sarà una sconfitta sarà la difficoltà di tenere insieme appunto quell'immagine che che è molto interessante che è molto femminile femminile nel senso delle lotte politiche femminili cioè che nel partito non esisteva e c'è la possibilità che l'udit fosse l'unico luogo in tempo si usava l'espressione cinghia di trasmissione del partito dove donne comuniste socialiste azioniste e all'inizio persino democristiane potessero stare insieme mettendo al centro quelle che erano le battaglie femminili perché anche lì c'erano modi diversi di stare dentro al partito c'era chi riteneva che stare dentro al partito vorrei dire un'uguaglianza assoluta tra uomini e donne quindi nessuna sezione femminile che si occupasse delle cose di donne per così dire e chi invece riteneva al contrario che proprio valorizzando lo specifico femminile nel partito sarebbe stato positivo insomma è una fase in cui tutto quello viene discusso articolato all'interno di un mondo ovviamente dove dove la dimensione maschile ha una prevalenza una donna come Marisa Rodano che è stata una grande dirigente intellettuale del tempo del partito comunista mi raccontava come quando si andava alle riunioni anche per queste cose per organizzare i viaggi dei bambini erano riunioni molto come dire caotiche per la quantità di bambini proprio figli delle militanti che erano lì e non erano lì perché volevano portarsi dietro ma perché i mariti a casa non avevano nessuna intenzione i compagni di tenerseli mentre le donne andavano in sezione e anche lì c'era una difficoltà per le donne andare in sezione perché non tutti gli uomini volevano che le donne uscissero di casa la sera andasse a fare politica cioè sono battaglie stratificate in cui però c'è questo momento straordinario anzi direi di più uno dei momenti di straordinario protagonismo perché una delle cose interessanti nelle storie di questi militanti è che non è che si sono occupate solo di quello cioè ogni militante si occupava di organizzare di ricostruire asili di fare le mense si occupava dei bambini si occupava di politica cioè tanto più per le donne ancora più che per gli uomini ognuno di quei pezzi è una sorta di come dire di educazione alla democrazia di scuola di democrazia che per le donne rappresentava obiettivamente una fatica maggiore rispetto agli uomini a cui comunque anche nel fascismo era stato dato come luogo e spazio assoluto dimensione pubblica della politica infatti quando tu parli di cura elevata ad atto sociale è proprio è proprio questo insomma no quindi come dire il rendere pubblica e quindi anche più evidentemente sottolineare la sua assoluta necessità della della cura e in questa in questo atto che appunto si prende cura dei dei più piccoli dei più fragili c'è anche tanta capacità di immaginare il futuro no c'è anche tanta voglia di immaginare il futuro forse questa è una delle caratteristiche che prima si affacciano tra le persone dopo la fine di un conflitto no perché c'è la guerra ma poi c'è il dopoguerra insomma il dopoguerra è un periodo estremamente complesso no perché sono tutta una serie di di fermenti e in questa capacità di immaginare il futuro insomma gli attori che si occupano sostanzialmente volendo un po' semplificare ma anche per rendere più chiaro no che ascolta e magari non ha letto il saggio la situazione ci sono insomma il partito comunista quindi diciamo così la sinistra genericamente detta no le donne di cui abbiamo abbiamo parlato e la controparte è la chiesa no quindi nel caso di questa vicenda perché siamo in italia la chiesa confessionale la chiesa cattolica no che di fatto paradossalmente un po' coopera e un po' mette un po' il bastone fra le ruote no cioè insinua questa paura lì ma poi guardate questi bambini partono se li mangiano i comunisti non li vedete più no e che però si si rende conto lei stessa della necessità di di operare in modo diciamo così per per esprimerci maniera più consona a quella parrocchia caritatevole no e allora mi viene un po' da dire non per fare paralleli ma guardando un po' a quello che sta succedendo adesso che anche adesso ci stiamo stiamo osservando delle situazioni in cui insomma le le navi delle ong che che stanno nel mediterraneo e cercano di dare accoglienza di salvare da morte certa i chi chi decide di affrontare un viaggio spesso mortale insomma per per sfuggire alla miseria alla guerra alla violenza sono spesso delle delle chiese delle confessioni quindi cioè e anche una parte di tutto il mondo della cooperazione di sinistra quindi mi viene da dire che c'è stata un'evoluzione ma insomma gli attori più o meno sono rimasti sempre sempre gli stessi e mi pare che sia comune anche l'afflato di voler immaginare il futuro in questo senso e e d'altra parte mi sembra invece che da parte di molti governi non solo quello italiano ci sia il tentativo neanche troppo larvato di criminalizzare questa solidarietà cioè il fatto di accogliere qualcuno di di aiutarlo viene criminalizzato tu che che considerazioni fai su questo punto eh io faccio un po' di considerazioni la prima che mi viene da fare stiamo attenti sempre parallelismi perché spesso sono affascinanti sono evocativi ma poi rischiano di eh di come dire di costruire eh di parallelismi che storicamente sono sono deboli o o o o non sufficienti per cui io proverei a prendere su cioè come dire proverei a articolare quello che dicevi tu per capire dove sta il parallelismo ehm allora secondo me c'è un parallelismo di tipo eh come dire secolare cioè eh dal mio punto di vista credo che noi facciamo i conti abbiamo fatti i conti nel novecento con due grandi famiglie solidaristiche che sono quella socialista in senso lato socialismo e quella cattolica eh che hanno rappresentato nel corso del novecento due grandi soggetti che un po' per proselitismo politico ideologico un po' perché i valori sono quelli no? Quelli della solidarietà quella chiamiamola carità cristiana o solidarismo socialista ma insomma che vanno al centro delle dei bisogni eh dell'uomo e a partire dai bisogni primari dell'uomo beh in questo senso si sono eh combattuti alternati sovrapposti hanno spesso collaborato eh in in rispetto a che cosa? Eh beh rispetto alla debolezza in varie fasi della storia italiana dello Stato come soggetto che da un lato prendeva atto molto lentamente del fatto che certe cose non erano più del appartenente alla beneficenza, alla filantropia, al buon cuore delle persone ma diventavano progressivamente diritti, diritti universali, diritti da rispettare, da fondare, da garantire e da costruire. Ecco eh diciamo che eh la differenza di fondo invece è che mentre oggi ehm non credo di dire niente di particolare se eh ripeto quello che dice cioè noi siamo di fronte a bisogni eh universali eh trasversali a pezzi di 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 famiglie a persone che attraversano il mondo per cercare semplicemente di 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 sopravvivere e abbiamo un'ostilità diffusa da parte dei governi affinché questo accada e quindi si costruiscono muri barche che che sparano eh libici che torturano o qualunque altro accordo apparentemente democratico che però ha come obiettivo di tenere lontane le persone eh eh da 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 altri posti. Quello che accade nel secondo dopoguerra non è quello. Nel secondo dopoguerra il problema è la debolezza dello Stato. Eh cioè in quella fase ricordiamoci fino a quarta e sette peraltro sono governi di unità nazionale, cioè governi in cui ci sono tutte le forze. Quello che manca lì è lo Stato. E allora le due famiglie cattoliche e socialiste in realtà hanno un ruolo straordinario di supplenza rispetto a uno Stato mancante e che infatti diciamo dalla fine degli anni 40 già più organizzate e così via diventerà sempre più in grado in realtà togliendo al partito comunista, socialista qualunque tipo di ruolo e delegando totalmente la Chiesa. Ma c'è uno Stato che progressivamente esiste di più. Lì invece lo Stato è debolissimo e quindi lascia questo spazio a soggetti che sono in grado o per straordinaria mobilitazione e invenzione come da parte della parte diciamo della sinistra o per tradizione e organizzazione come da parte della Chiesa. Ecco detto questo è interessante notare come questa cosa che dicevi tu cioè questa collaborazione a volta ostilità in realtà è una collaborazione a volta ostilità che da un punto di vista generale nasce dal fatto che hanno obiettivi diversi da un punto di vista politico ideologico di controllo e organizzazione della società. Faccio un esempio per capirci. La Chiesa Cattolica come il Partito Comunista è assolutamente d'accordo nel fatto che bisogna aiutare questi bambini. Però c'è un vescovo che è il vescovo di Torino a un certo punto manda una lettera dicendo una cosa che a noi si fa un po' rabbrividire magari oggi dice sì dobbiamo aiutarli ma a casa loro. Ora questa cosa che vista così sembra di nuovo... Abbiamo sentito anche più tardi questa cosa. Ecco però di nuovo il parallelismo rischia di essere falso. Perché? Perché in realtà che cosa vuole dire con a casa loro? Sono proprio due modelli diversi di famiglia. Cioè dire la preoccupazione cattolica è che la famiglia si disgreghi e quindi aiutare la casa loro significa per mantenere unito quello che vogliono essere poi il modello di società. dall'altra parte ce n'è un altro di modello. Quindi il parallelismo funziona appunto fino a un certo punto. Però detto questo che cosa abbiamo? Abbiamo situazioni molto diverse. Proviamo a polarizzarle perché poi in mezzo come tutte le cose c'è uno spettro complesso di situazioni. Da un lato noi abbiamo soprattutto al sud moltissimi sacerdoti che per tradizioni, ignoranze e così via, paura e anticomunismo diffuso, raccontano quello che dicevi tu, raccontano del fatto che i bambini verranno portati a nord, non sapremo cosa gli accadrà, verranno... Notoriamente i comunisti mangiano i bambini, chiunque è stato comunista perlomeno un bambino se l'è mangiato, però quindi mangiano i bambini, li tagliano le mani, faranno del sapone. In realtà riprendendo stereotipi che sono quelli che diffondeva la Repubblica Sociale sui bambini mandati negli anni trenta dalla Spagna in Unione Sovietica e di cui si raccontava appunto che erano stati o mangiati o sfruttati dai comunisti in Unione Sovietica. Dall'altra parte che cosa succede? Che soprattutto nel nord, un po' per tradizioni, un po' verrebbe da dire Camillo, Don Peppone, Don Camillo, no? Ma c'è un diverso tipo di relazione, perché quando arrivano questi bambini, la verità è che non è che... Certo, nell'Emilia Romagna la maggior parte vota comunista, la maggior parte così, però la verità è che non è che nella comunità del paese del bolognese o del modenese sono tutti comunisti, è che arriva un gruppo di bambini che ha fame, arriva un gruppo di bambini che bisogna aiutare e le aiutano tutti, gli aiutano anche i preti che se ne fregano e anche le donne del CIF, cioè del centro italiano femminile, che erano le donne cattoliche che poi sotterraneamente collaboravano, perché poi di fronte a quei bisogni si collaborava, allora la maggior parte dei sacerdoti, anche i propri sacerdoti, prendevano dei bambini a casa loro, li aiutavano, i comunisti dall'altra parte si imponevano che facessero poi la comunione i bambini più piccoli perché volevano far vedere che non erano dei mangiapreti, quindi c'era tutta una sorta di costruzione comunitaria che non è che diventava un mondo buono dove tutti si volevano bene, cerchiamo di non trasformarlo poi in una caricatura, ma dove di fronte ai bisogni materiali le persone si mobilitavano, a me colpisceva molto leggere di come arrivano questo gruppo di bambini e allora arrivano con il treno, scendono dal treno, più o meno tutti si preoccupano in quel paese di organizzare un po' di mangiare, di coperte e così via, poi c'è l'autista che non è che deve essere comunista, che li porta nelle case, e poi dopo c'è il calzolaio che non necessariamente è un comunista che fa le scarpe a questi bambini, e poi c'era il salto che non necessariamente è un comunista che gli fa i vestiti, e poi c'era quello che portava, ci chiamiamolo scuola bus, come diremmo oggi, che non necessariamente è un comunista, e poi le maestre che non necessariamente, cioè voglio dire, se è chiaro, c'era una dimensione comunitaria di solidarietà che riusciva a essere trasversale e superare il cervello, soprattutto nel piccolo, soprattutto nella comunità piccola, mentre invece sul piano della politica grande era chiaro che lì si combatteva una battaglia che era parallela ad altre, ricordo solo che nello stesso periodo l'altra grande battaglia, ancora più grossa, perché era ancora più grande come investimenti e come controllo dell'infanzia e gioventù è quella che si combatte sulle colonie, che poi diventeranno tutte ad appannaggio della Chiesa Cattolica. Quindi c'è un progetto, in qualche modo, che entrambe le famiglie comunista, io adesso dico comunista, ma insomma per capirci, guardava tanti soggetti, cioè comunista e cattolica, avevano rispetto a questo paese, avevano rispetto ai propri ideali e che poi però spesso si confrontava anche con i bisogni immediati dei bambini che venivano accolti. Tu prima hai accennato al fatto che... C'è un signore che ha alzato la mano, non so come siete organizzati su questo. Ivan Minguzzi, sì. Se vuoi iniziare a fare una domanda possiamo anche rinamicizzare un po' così. Sei muto, Ivan? Non ha la... Devi smutare. Sto provando a smutarlo io. Sei senza microfono, Ivan? E io non riesco a toglierti il muto. Se no scrivi in chat. Eccolo, ha tolto. Eccolo, eccolo. Allora, complimenti per l'iniziativa. Io ho inviato alla Lampi di Francoforte, in giornata, una foto che è della mia famiglia, dove con un bambino di un anno e mezzo in braccio che è sottoscritto e presenta un bambino di Napoli, la mia famiglia, una di quelle che hanno ospitato nel 1947, un bambino orfano che veniva da Napoli. Orfano. Orfano. È interessante questa cosa. Purtroppo l'unico testimone, e allora avevo un anno poco più, è sottoscritto, non è rimasto nessun altro. Che dire, è un grande slancio di solidarietà post-liberazione. Il mondo non è, anzi, il mondo non è migliorato. Se ci guardiamo attorno, il mondo è veramente una situazione drammatica in cui viviamo. E quanto bisogno ci sarebbe di un nuovo slancio di solidarietà, anche in funzione di promuovere la pace. Abbiamo, mi sembra, 6 milioni di profughi dall'Europa, dalla guerra nel cuore dell'Europa. Abbiamo il dramma dei palestinesi, soprattutto il dramma dei bambini palestinesi trucidati sotto le bombe, sotto le mazzerie. La mia casa, devo dire, è una casa di braccianti. Dove? Ravenna, anzi, nelle campagne Ravennati. La mia casa, quindi Romagna, è stata prima, ha ospitato il comando partigiano della 28esima brigata, qui siamo a ridosso della linea gotica, e va detto che le donne, come credo vanno detto in tutto il contesto della resistenza, in particolare qui le donne hanno avuto un ruolo molto importante, decisivo, perché poi la 28esima brigata finisse con un grande concentramento nelle valli e quindi doveva essere giornalmente riformita di vitto, di servizi e il lavoro era affidato alle staffette. mia sorella a 16 anni è stata staffetta parchisana e quindi c'era questo lancio di unità, di solidarietà, di impegno, e ha portato anche questo elemento di, come dire, aiutiamoli in casa loro e poi c'è anche l'altra, come dire, l'altra provocazione, accoglietevi a casa vostra. In questo caso li hanno accolti a casa propria. E quindi c'è la foto, se la volete, è a disposizione dell'Ampi di Francoforte, l'avete inviato in giornata. E questo è il dato. Il mondo avrebbe bisogno veramente di un nuovo lancio di solidarietà da parte. Posso fare un'osservazione su quello che stava dicendo adesso, anzi due osservazioni. Una è che sono stupito e incuriosito del fatto che fosse un orfano perché gli orfani erano esclusi dai viaggi, perché ci voleva un genitore che desse l'autorizzazione per portarli. Quindi no, è una cosa interessante perché non l'avevo sentita. Vado a memoria. No, 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 no. L'altra cosa però, quella che secondo me è più interessante rispetto a quello che ha detto, su cui sono solo parzialmente d'accordo. Cioè, mi spiego, io non credo... Bruno, mi puoi dare o mi puoi dare del tuo? Ah, no, no, diamoci poi del tuo, non è mica un problema. Volentieri, diamoci del tuo. Allora, rispetto alla cosa che dicevi, e sono solo parzialmente d'accordo, perché io sono abbastanza convinto che in realtà noi siamo in un... Ah, eccola qua la foto. Grazie Silvia. Questo è Napoli. Allora, l'anno è sicuramente giusto perché i bambini di Napoli arrivano esattamente nel 1947, sono gli ultimi che arrivano. Sì, ma la testimonianza è questa, perché... Sì, sì, no, no, però... No, allora, dico una cosa, poi ne aggiungo un'altra per chi ci ascolta, perché così diamo qualche elemento. La cosa su cui dicevo, sono solo parzialmente d'accordo, è che secondo me noi siamo in un sistema in realtà straordinariamente solidale. Cioè noi abbiamo delle, come dire, delle organizzazioni umanitarie, delle pulsioni e degli azioni da parte delle persone, secondo me di grandissima solidarietà diffusa. Io non sono d'accordo quindi sul fatto che avremmo bisogno di quello. Ce l'abbiamo. Il punto è un altro, secondo me, è che la differenza tra ciò che accade in quella fase di distruzione, post-Bellica e così via oggi, è che quella capacità di esserci rispetto ai problemi delle persone si coniugava con un'idea di mondo, cioè con una visione del mondo, con la capacità e la volontà di lottare non soltanto per risolvere quel problema, ma per tenerlo insieme a una visione del mondo. Quindi si lottava sia per quello che anche per la trasformazione del mondo. La differenza oggi, secondo me, è che non è un fatto negativo, però è molto diverso, è che gran parte delle persone in realtà aiutano a risolvere problemi concreti e poi sono molto lontani dalla politica, come se la politica fosse una brutta cosa, mentre invece l'azione sociale e solidaristica fosse l'unica cosa buona. E questa è una cosa meravigliosa, ci mancherebbe. Per fortuna che ci sono così tante persone che aiutano i migranti, che danno alla Caritas, danno al cibo. Ma questa differenza, secondo me, è denotante. Il mondo diverso in cui viviamo, e questo secondo me è la debolezza, come la vedo io ovviamente, è una debolezza, perché finisce che le persone sono straordinariamente attive, solidari, partecipi, agiscono, ma poi questo non sta dentro, ma questo io lo dico da uno novecentesco, da vecchio, come dire, persona che pensa che il partito di massa funzionava molto meglio. Però quella cosa è mancante. Questa è come la vedo io. Detto questo, racconto a una cosa, per dire le contraddizioni però che ci sono anche. Quando nel 46, perché prima arrivano dal sud, allora dico a tutti per spiegare, nel primo inverno vengono portati i bambini Emilia-Romagna da Milano e da Milano, mentre i bambini di Torino vanno a Mantua, a Bergamo, in quella zona. Quindi questa operazione nasce al nord. Poi il secondo inverno, cioè l'inverno, nei mesi successivi, toccherà ai bambini di Cassino e poi ai bambini di Roma. Soltanto successivamente si organizza appunto il viaggio per i bambini di Napoli. Ed è interessante anche, perché lì si vedono le contraddizioni. Cioè le stesse famiglie che accolgono i bambini di Cassino e di Roma, quando poi arrivano i bambini napoletani sono un pochino più titubanti, perché dicono, vabbè, finché arrivano quelli di Cassino va bene, ma adesso ci arrivano questi shusha delinquenti da Napoli. Non è così facile averli. Cioè c'è anche una dimensione di razzismo e di discriminazione. ci sono casi di questo genere, non che quella fosse il codice di riferimento. Quindi i bambini di Napoli arrivano e in realtà sono gli ultimi, perché poi dopo, nell'anno dopo, cioè nel 48, continueranno ad arrivare ancora bambini dal sud, ma sarà sempre più difficile, perché dopo la fine dell'unità nazionale, diciamo, del governo internazionale del 47, le risorse non verranno più date, i treni non verranno più dati, concessi al Partito Comunista e all'Udi, ma verranno, tutte le risorse verranno spostate nella parte cattolica, e quindi alla Chiesa cattolica, e quindi sarà sempre più difficile ripetere quell'esperienza. Grazie anche a Ivan, è stato bello avere una testimonianza di questo episodio straordinario. Tu prima hai fatto riferimento a un moto di grande solidarietà, Bruno, quasi, se lo intendo bene, interpretandolo come una cifra, del fatto di essere in Italia, cioè che questo è stato un momento, secondo te c'è una, come dire, senza voler fare dei cliché, ma c'è un dato che può far coincidere queste due caratteristiche, queste due dimensioni? Io penso di sì, nel senso che, con tutti appunti, distingo senza voler trasformare in un carattere, io mi dicevo carattere degli italiani, ma sono cose grosse, insomma, prima di poterlo dire. Ma, come dire, se noi guardiamo al sistema di valori, ma non solo al sistema di valori, ma alle pratiche, ci rendiamo conto che la storia novecentesca è attraversata da queste cose. Ci rendiamo conto, per esempio, che la tradizione socialista, solidaristica, non è che nasce con i treni dei bambini, nasce ben prima, nasce all'inizio, nasce, cioè si esercita, per così dire, all'inizio del novecento con gli scioperi contadini operai, basta guardarsi il novecento di Bertolucci per ritrovare esattamente i treni dei bambini che dalle zone di Reggio Emilia vengono riempiti, i bambini dei lavoratori delle campagne che sono in scioperi, vengono mandati a Genova. Quindi, come dia, quell'esperienza nel 1945 è una sorta di restituzione dei Reggio Emilia verso i milanesi. Ed è, lo stesso modo, lo ritroviamo anche dopo la Prima Guerra Mondiale, quando ci sono altri treni, quelli che vengono chiamati i treni dell'amicizia e che sono quelli che portano in Italia i bambini affamati di Vienna e ne arrivano 5.000 in Italia ed è organizzato proprio a partire da quella Milano socialista che è guidata dal sindaco socialista a Caldara dopo la Prima Guerra Mondiale. E poi, certo, noi abbiamo il fascismo, quindi un attraversamento molto radicale e una chiusura molto radicale. Quindi, da questo punto di vista c'è una scia che lega, anche se non lega in modo netto, ma pensiamo anche al solidarismo che viene molto diffuso quando c'è la caccia agli ebrei tra il 43 e il 45. Ora, quella chiesa come dire, che è stata silente e colpevole di fronte alle leggi razziali e che rimane silente di fronte alla deportazione e però si accompagna anche a una chiesa dal basso di sacerdoti, di suore, di conventi che aprono le porte, nascondono gli ebrei, nascondono i resistenti, nascondono i militari che scappano, non come un codice unico, ma perché, secondo me, la cosa che accade per esempio in quel momento, come in modo diverso, accade nel 45 e che quando tutto si spascia, poi rimaniamo, adesso non voglio essere retorico, ma per capirci, rimaniamo da soli di fronte alle nostre coscienze e lì emergono, forse riemergono, quei sistemi di valori su cui ci siamo educati. Ora, io sono un, come dire, un mangia preti, per dirla male, cioè il mio eroe Giordano Bruno, insomma, come dire, non ho nessuna simpatia verso la Chiesa in quanto istituzione, ma sarebbe sciocco non riconoscere che i valori solidaristici e cristiani sono parte fondamentale anche del nostro DNA, DNA culturale, intendo dire, DNA di ciò che abbiamo imparato, su cui siamo cresciuti. Allora, queste due, come dire, queste due ideologie, visioni, o meglio, visioni del mondo hanno degli elementi che pur nella loro diversità hanno una comunanza che in Italia, secondo me, si intreccia fortissimamente che quella, appunto, per esempio, del solidarismo, dell'aiutare chi è in difficoltà e così via. Lo vediamo poi anche nella seconda metà del Novecento, poi lo vediamo con i bambini di Cernobil, lo vediamo, oggi lo vediamo a Lampedusa, cioè dove le persone che si rendono invase, tra virgolette, per mesi, eppure il loro pensiero è l'aiuto delle persone. Cioè lo vediamo con le fide della Caritas quando c'era il Covid e le persone morirono di fame, cioè tutta questa cosa qui forse andrebbe studiata e capire come quelle radici sono state parte dei progetti politici, ideologici che in questo paese si sono a volte intrecciati, a volte sono stati in conflitto, ma hanno rappresentato un elemento che secondo me è molto italiano. Cioè noi non siamo buoni, navigatori, santi, siamo stati criminali come tutti gli altri, abbiamo compiuto stragi e crimini come i nazisti, abbiamo fatto le cose peggiori come tutti. Nello stesso tempo io credo che invece ci siano degli elementi che hanno accompagnato la storia del Novecento e arrivano fino a noi, certo con queste trasformazioni e con delle contraddizioni grosse come delle case che riguardano tutti. Faccio soltanto un esempio che credo conosciamo tutti. Cioè chi è che non ringrazia i polacchi per aver accolto centinaia di migliaia di ucraine all'inizio della guerra che scappavano tra cui tantissimi bambini? Certo secondo me è stato un nobile comportamento delle persone e della Polonia ma lo stesso paese che mentre da una fila faceva entrare gli ucraini l'altra fila e cioè quella dei siriani la bloccava e non faceva entrare famiglie e bambini siriani in Polonia queste contraddizioni che ci allontanano secondo me ci devono entrare dal mondo del buono cattivo colpevole o santo però fanno parte delle storie nazionali nella nostra secondo me ci sono questi elementi che in quella vicenda specifica si sono intrecciati spesso virtuosamente e in alcuni casi invece si sono intrecciati come conflitto faccio un esempio che è anche divertente se una voglia poi di legge in questi treni dove nei momenti in cui si organizzava la partenza ma anche in arrivo in realtà c'erano organizzazioni che tenivano insieme tutto la prefettura l'Udi il CIF la chiesa cioè in qualche modo tutti si riunivano per capire come fare beh in questi treni per esempio c'erano sia le donne dell'Udi le donne comuniste vestite in modo non spesso non così femminile come si voleva al tempo e dall'altra parte le croce rossine tutte linde tutte perfettine che che incontrano queste altre donne le incontrano si guardano in Cagnesco si guardano da due mondi molto diversi anche da principi e valori spesso diversi ma poi su quel treno che treni che poi bisogna ricordare ci metteranno due giorni per fare per fare 500 chilometri beh su quel treno poi si dovevano occupare di quei bambini se ne occupavano insieme attenzione ripeto non trasformiamolo nel mondo delle favole dove poi tutti si volevano bene ma manca un po' però io continuo a pensare che quando poi si guarda la dimensione comunitaria i meccanismi di funzionamento spesso possono essere più virtuosi ma lo vediamo anche lo vediamo anche oggi se noi pensiamo a questo paese di dove e qui credo in questa sede lo posso lo posso dire senza senza problemi cioè dove abbiamo un governo in orbace che ci guida e dove c'è una parte consistente degli italiani che vedrebbe bene ricacciare i migranti mettere in galera i dissidenti e così via tuttavia poi noi abbiamo non solo Lampedusa abbiamo centinaia di comunità in tutta Italia che quando arrivano famiglie di migranti e così via si preoccupano di aiutarli non si preoccupano non si spaventano le integrano si preoccupano dei bisogni primari questo non vuol dire che fa tutto bene ma che c'è ci sono degli elementi che soprattutto nelle realtà più piccole fanno funzionare quello che forse qualcun altro vorrebbe che non funzionasse affatto ti ringrazio per le riflessioni che io prendevo un po' di appunti effettivamente danno moltissimi stimoli fra fra tutti questi queste suggestioni che hai messo sul tavolo mi viene da pensare a due cose soprattutto la prima è che tu dicevi prima giustamente che quando tutto crolla poi si resta da soli con le proprie coscienza o comunque insomma con tutto da ricostruire queste questa esperienza questo episodio ha funzionato ha funzionato molto bene per diversi anni e però non dico che sia stato senza regia perché di regia ce n'erano diverse però voglio dire non c'era una struttura come dire ben definita dall'alto non c'era un governo sì certo c'era governo ma insomma non c'era una situazione così solida per cui dici io adesso organizzo questa cosa e la organizzo in questa in questa maniera quindi possiamo dire che è qualcosa che è partito veramente dal basso in qualche modo o comunque è partito con la grandissima capacità delle persone di mettersi in gioco e allo stesso modo il fatto di avere questa convivenza a volte magari anche un po' rissosa insomma ma comunque riuscire a vedere il bene superiore e andare avanti non in una fenomenologia di volemose bene come dicevi tu ma comunque dire teniamo la rotta su quello che è necessario su quello che è indispensabile no? quindi avere veramente presente il bene superiore no? quello che è il bene superiore del minore anche quando due persone si separano no? quando il giudice ti richiama il fatto che sì tu ti puoi anche scazzare se mi passi il termine con tua ex coniuge però insomma devi tenere tutte e due dovete tenere ben presente il bene superiore della persona più fragile ecco e e l'eterogeneità appunto di queste di queste di questi contributi di queste esperienze che a volte facevano veramente un po' cazzotti l'uno con l'altro però nonostante questo riuscivano appunto a buttare il cuore oltre l'ostacolo mi fa un po' pensare che sono in qualche modo le stesse condizioni che hanno permesso a uomini e donne a un certo punto di decidere da che parte stare durante il conflitto no? dopo l'armistizio del 43 di dire bene adesso ci mettiamo tutti insieme socialisti comunisti cattolici atei ebrei liberali nobili e combattiamo contro il male il male maggiore che è questo regime fascista ti sembra che possa esserci questo afflato comune in tutte e due le esperienze quella della resistenza e quella di questa grande operazione di di vicinanza umana di solidarietà io credo che ci sia sicuramente un legame anche più di un legame perché i legami sono quelli che in qualche modo cercavo di sviluppare c'è il legame del fatto che è vero che siamo nel dopoguerra ma siamo in un paese che non è che è distrutto completamente ma insomma che deve decidere come costruire e non solo costruire le case ma costruire la politica costruire le relazioni costruire tante cose e quindi deve le persone sono di fronte a delle scelte ora il 43 l'8 settembre sappiamo insomma che è quella cosa lì è la scelta no? è la scelta non solo da che parte stare ma anche che cosa fare sono grandi questioni nel 45 è diverso ma c'è un problema di che direzione che direzione prendere della propria la propria esistenza delle proprie responsabilità e così via e poi l'altro regame sicuramente è l'idea che come dire che quella visione del mondo è una visione del mondo che non può prescindere dalle risposte concrete cioè che non può prescindere dal fatto che ti alzi la mattina e devi dare delle risposte alla scuola che chi usa alle aule che sono distrutte non ci sono i banchi perché sono state bombardate al mangiare come un bisogno primario essenziale per i bambini ah tu prima devi citare i traumi la guerra è un luogo che noi guardiamo sempre dal punto di vista degli adulti cioè noi guardiamo tutto il mondo dal punto di vista degli adulti dei bambini normalmente non lo consideriamo mai però se noi guardiamo il mondo dal punto di vista dei bambini ci rendiamo conto che la guerra certo ha colpito tutti non è che ha colpito i bambini sì e gli adulti no ma con la differenza che quei traumi hanno sono intervenuti nella fase più delicata della vita cioè del momento in cui si cresce no e si diventa quello che si è e quindi hanno determinato una straordinaria accelerazione si usa sempre un'espressione sbagliata che finisce e finiva l'infanzia no no l'infanzia finisce comunque finisce per tutti non è che c'è qualcuno per cui non finisce no era il modo non il fatto che finisse era il modo storto accelerato traumatico che determinava chiunque ha conosciuto io penso ai miei genitori mia madre che era bambina durante la guerra che quando poi parlava di quelle cose si vedeva come quell'esperienza la bambina l'avesse poi determinata anche se poi ha fatto altro voglio dire però ha determinato nella vita ecco da questo punto di vista prendersi cura delle persone più deboli prendersi cura era un legame forte non è un caso che una delle donne che ha partecipato anche se non in modo totale ma ha partecipato a questa organizzazione del treno fosse Gisella Florianini che è stata una partigiana donna che ha è stata la prima donna a far parte del CLN della Repubblica del Novarese insomma fu già il nome beh comunque dove fu creato un modello di nuova scuola ecco queste cose sicuramente collegano questo dopodiché c'è anche una specificità femminile di nuovo faccio un esempio per capirci quando questa esperienza inizia gli uomini del partito comunista vorrebbero che a essere aiutati fossero solo i figli dei partigiani cioè i figli di coloro che hanno combattuto e sono stati quindi e le donne dicono i bambini sono tutti uguali quindi noi aiutiamo i bambini che in difficoltà partigiano non partigiano fasciste e così via certo su questo poi il partito costruisce una retorica incredibile noi aiutiamo tutti l'altro che insomma la racconta sull'unità però resta il fatto che questa differenza tra uomini e donne tra chi chi mette al centro come fanno le donne come dire il bisogno indipendente dall'appartenenza che poi è importante ci mancherebbe non è che l'appartenenza non c'è e che invece ne fa e lo trasforma solo solo sostanzialmente in una questione di uso politico beh anche questo ci dice qualcosa su quella continuità tra l'esistenza cioè quella che Pavone chiama la moralità della resistenza cioè di quel sistema di valori che determinano poi la partecipazione o meno a quella vicenda insomma c'è un legame non bisogna di nuovo eccedere nella continuità ma è in dubbio che quell'esperienza della resistenza diventa poi ecco come dicevo prima l'esperienza resistenza diventa poi un elemento fondamentale nell'educarsi alla democrazia che è un'esperienza nuova per tutti per la stragrande maggioranza dei giovani perché questi sono giovani sono donne giovani sono uomini giovani che non hanno mai visto nient'altro che il fascismo e quindi educarsi alla democrazia significa educarsi a una pratica quotidiana una cosa che per noi oggi è impensabile cioè quell'idea che fare politica significa alzarsi e fare delle cose cioè per noi per molti impensabile fare delle cose agire nella società e nello stesso tempo fare politica anche ad altri ad altri livelli questo è qualcosa che secondo me dovrebbe essere la lezione maggiore in fondo ne avevamo parlato e la ragione per cui ho scritto questo libro ho fatto poi il libro è sempre una conseguenza in realtà di una curiosità indipendentemente dal libro e cioè perché io mi domandavo poi lo scrivo da qualche parte mi domandavo come diavolo posso fare a spiegare oggi a un ragazzo che la politica è bella di fronte a questa invasione della politica come luogo delle fandezze maggiori del ladrocinio dei disvalori della perdita di tempo dei truffatori cioè la politica è solo quella e invece no e allora come farlo spiegare dato che faccio lo storico vado a cercare una storia nel passato e cerco di raccontare perché invece la politica è bella perché la politica è appassionante perché la politica è vorrei dire ma adesso qui esagero è amore cioè come le grandi esperienze esistenziali e sentimentali possono passare anche attraverso la politica questa è una lezione che se noi guardiamo il passato forse ci viene voglia di fare politica oggi andare in una serie di partito qualunque sia andare a Lampedusa ad aiutare un migrante o andare anche in una mensa ad aiutare i poveri o anche in un canile municipale occuparci di cose cioè a esercitare il nostro diritto dovere di quella bella parola che però dimentichiamo spesso che si chiama cittadinanza grazie Bruno faccio un'ultima osservazione poi darei la parola anche a chi ci sta seguendo e che magari ha delle domande o delle osservazioni da fare agire nella società no? portare una un'azione quindi portare il pragmatismo insomma ecco questa è una cosa che se uno osserva adesso alcune formazioni politiche di estrema destra che stanno drammaticamente prendendo sempre più campo anche a livello di di parlamenti nazionali e adesso lo vedremo a temo fra poco dopo le elezioni a giugno del Parlamento europeo ecco io ho visto parecchi documentari in cui per esempio si vedono militanti di Casa Pound piuttosto che del Front National in Francia che vanno a impervicarsi in villaggetti montani dove c'è quattro vecchietti ultimi spravvissuti senza automobile e gli vanno a fare la spesa gli vanno a comprare le medicine insomma alla fine questo tipo di operazione qui no? per cui se hai bisogno e lo Stato latita non c'è vengo io ad aiutarti crea evidentemente una serie di poi risultati abbastanza spaventosi che sono abbastanza sotto gli occhi di tutti adesso io non credo che questi partiti abbiano guadagnato voti e favori solo aiutando i quattro vecchietti in montagna però insomma è una delle operazioni questa di rendersi visibili facendo cose che servono che a me sembra che i partiti che noi così immaginiamo sotto questo grande ombrello di sinistra diciamo così forse hanno un po' dimenticato o non riescono più a mettere in pratica tu che cosa cosa pensi di questo? Cosa penso? Difficile eh lo so No è difficile paradossalmente semplicissimo cioè nel senso che quel distacco tra la politica e la società che non è di oggi ha prodotto che cosa? Ha prodotto tra le altre cose il fatto che eh alcuni soggetti non solo della destra no ma penso ne parlavamo in un altro momento ma insomma penso al ruolo di spesso che hanno centri sociali in questa in questo paese nella costruzione di relazioni di quartiere di aree più piccole eh quindi come dire che a partire da una visione radicale della società destra sinistra però mettono insieme l'idea che avere una visione significa poi fare delle cose quindi secondo me questa cosa è molto polarizzata eh certamente la differenza è che quella estrema destra è riuscita a connettersi eh con i partiti è riuscita a a essere riconosciuta e legittimata mentre invece tutta quella parte di più o meno maggiore radicalismo che c'è a sinistra viene invece osteggiata è condannata dai partiti di sinistra cioè lo si è visto anche eh al di là delle opinioni che si hanno e non sto adesso dicendo che uno fa bene l'altro fa male ma è chiaro che c'è quella distanza e quella difficoltà a costruire una mobilitazione collettiva no? Cioè ehm questo è un problema col quale in ogni luogo bisogna bisogna misurarsi ed è chiaro che eh quella cosa che chiamiamo sinistra ehm è un quacervo di soggetti che qui ci si può ovviamente riconoscere più o meno legittimamente eh ma che sono lontanissimi lontanissimi quotidianamente con i problemi con delle persone questa cosa qui o si può secondo me perché come la vedo io si può soltanto a questa cosa rispondere ricominciando a fare politica dal basso cioè non vedo alternative cioè rimettere al centro la politica come esigenza personale e collettiva faccio un esempio piccolo nostro che ti avevo raccontato cioè di fronte al fatto che la politica si fa in tanti modi di fronte al fatto che è chiaro che nel nostro paese sempre di più viene criminalizzato il dissenso io lavoro in università e in università la polizia ormai entra la polizia picchia studenti e docenti ehm come dire quando quando arriva nel nostro università a Torino ormai il FUAN cioè i ragazzi del diciamo dell'estrema destra a volantinare arrivano sempre preceduti dalla polizia che arriva si piazza fuori dall'università e incomincia a filmare tutti quelli che arrivano ora di fronte a questa cosa qui che cosa fai? beh una cosa per esempio abbiamo fatto cioè abbiamo creato nella mia università a Torino un coordinamento antifascista universitario ludico per adesso che c'è in Italia che ha come obiettivo quello di mettere insieme studenti docenti lavoratori che si ritengono e si pensano di essere rivendicano di essere antifascisti e su questa base si lavorano insieme costruiscono iniziative ci sono anche tecnicamente perché adesso con le chat se arrivano i fascisti ehm vengono tutti informati allora arrivano anche i docenti che è vero che ci ha menato pure i docenti ultimamente però diciamo hanno anche una autorevolezza con le forze dell'ordine maggiore cercando di mettersi in mezzo cercando di evitare come dire lo sconto necessariamente allora questa cosa qui serve non serve secondo me è un modo per rimettere al centro eh di nel piccolo ma si può fare da tante parti e così via rimettere al centro e mettere come si dice oggi in rete le varie esperienze per poter rivendicare che la politica sta lì un pezzo di politica sta lì dal basso nella relazione anche nella relazione nella possibilità di parlarsi di costruire iniziative di discutere e cioè di fare esattamente quello che la politica dagli anni 90 in poi in questo paese è riuscita perfettamente a fare diciamo la vittoria culturale del berlusconismo cioè l'atomizzazione degli interessi ognuno si faccia fare i suoi ognuno pensi al suo particolare ognuno se ne stia a casa sua eh e e qualche vantaggio da questo punto di vista ecco io credo che invece la lotta culturale a quell'idea di mondo eh di atomizzazione di marginalizzazione di esclusione non possa che cioè non so come farlo voglio dire ovviamente lo sapessi ma voglio dire credo che debba oggi partire dal basso cioè e lo si vede anche si può essere meno o più d'accordo con la mobilitazione sulla palestina degli studenti sulle forme sui modi sulle parole d'ordine su alcune cose che non sono d'accordo però questa esperienza sta dimostrando che la capacità di mobilitarsi di mobilitarsi su grandi questioni su grandi principi sulle cose su cui è difficile dire non mi interessa perché ci sei in mezzo beh questa cosa sposta le cose le sposta ovviamente oggi in questo contesto le sta spostando verso la repressione del dissenso verso come dire l'ostilità ai principi costituzionali e ai valori costituzionali però bisogna su questo bisogna lavorare piccolissimo esempio io sono entrato in aula qualche giorno fa chiedendo agli studenti che avrebbe centinaia di studenti in una lezione chiedendo che avrebbe partecipato al 25 aprile qualche modo in qualunque forma non importa come su 100 studenti più o meno 100 hanno alzato la mano 3 o 4 tutti gli altri volevano dire non faccio niente e beh allora vuol dire che tu hai un impegno come docente a quel punto hai un impegno io gli ho dato un compito il compito che gli ho dato gli ho detto fate quello che volete al 25 aprile ci mancherebbe andate al mare non fate niente guardate il soffitto però fatemi un regalo andate su youtube e ascoltatevi soltanto 20 minuti di una cosa andatevi a cercare Piero Calamandrei discorso l'umanitario del 1956 agli studenti passate 20 minuti ad ascoltare solo quello fate soltanto quello ascoltate il tono di passione di Piero Calamandrei quando spiega qual è il rapporto tra costituzione e resistenza quando spiega appunto come poi il manifesto mi pare l'abbiamo messo in prima pagina ma la stampano anzi l'aria ti rendi conto che ti manca quando appunto quando non riesci più a respirare cioè quel discorso lì è il luogo su cui lunedì adesso discuterò proprio discutere gli studenti che cos'altro si può fare a me sembra un punto di partenza sono assolutamente d'accordo sì di fatto tutto è politica poi penso che in tante e tanti hanno provato a declinare questo alla loro maniera un po' di tempo fa con il coordinamento donne italiane a Francoforte abbiamo fatto una serie di letture tra cui abbiamo portato Clara Sereni che per esempio in un suo libro bellissimo parla di casalingitudine che significa sostanzialmente il rapporto che tu hai con l'intimo nel senso cioè la casa prestare cura di nuovo l'essere solidali tra persone prepararsi delle cose farlo con coscienza rispetto anche per esempio ai temi ambientali che sono molto rilevanti anche adesso cioè se decido di mangiarmi una bistecca da un chilo o invece farmi un piatto di lenticchie insomma cambia anche un po' il mio impatto sul mondo sul mondo fuori quindi penso che sia tutto tutto valga e ognuno come dire anche con l'esempio può fare la sua parte sulla questione dell'antifascismo e del fatto che la repubblica italiana è una repubblica antifascista ecco sembra una banalità ma magari lo è ma lo dico è quanto mai necessario in questo momento ribadirlo che siamo antifascisti perché anche su questo termine vengono ad arte creati malintesi e questo non solo in Italia cioè noi viviamo in Germania ma anche in Germania il termine antifascista stesso viene considerato un termine antagonista dell'ordine costituito cioè non è così mi pare però bisogna ogni volta ribadirlo ogni volta puntualizzare e allora vale la pena anche fare questo cioè puntualizzarlo se posso se posso certo bisogna anche prendere atto dell'indebolimento culturale che c'è stato in questo paese di valori di parole di ambiguità intorno a queste categorie no cioè come dire non è che stiamo partendo da un cioè non siamo al grado zero no ma non siamo neanche al massimo cioè nel senso qui c'è un lavoro enorme da fare che però verrebbe da dire e non è qualunquismo credo che sia una presa d'atto si scontra con i bisogni elettorali per esempio cioè di avere dei vantaggi elettorali legittimissimi e normali in tempi molto rapidi per cui invece questi sono processi che hanno bisogno di lunga sedimentazione io quando nel settembre lo scorso anno ha vinto il centro cioè la destra il centro-destra è un'ambiguità la destra in questo paese io ho detto come credo l'abbiamo detto in tanti signori cioè capiteranno delle cose io credo che siamo dentro a un quadro democratico complessivamente ma capiteranno delle cose capiteranno delle cose spiacevoli e continueremo dovremmo continuare però ci andiamo di conto che questo non è che hanno vinto perché c'è stato il miracolo abbiamo scoperto il terzo segreto di Fatima no hanno vinto perché c'è un processo c'è stato un processo politico e culturale in questo paese se noi siamo in grado di prendere atto di questo allora forse si può pensare di ricostruire qualcosa con tempi molto lunghi perché sono processi culturali o sono processi elettorali sono processi culturali forse solo un processo elettorale sarebbe più facile sono processi culturali e non soltanto italiani no allora la vera domanda non è come dire quanto ci mettiamo ma cosa facciamo e io credo che dei segni positivi ci siano quello che manca ovviamente sono le figure capaci di riorganizzare in modo collettivo la frantumazione di queste esperienze spesso belle ma che poi finiscono in se stesse e non riescono a coagularsi in un progetto politico e questo è il vero il vero problema cioè io non sono pessimista rispetto ai processi sociali e culturali che vedo in atto sono molto pessimista sulla capacità di trasformarli in un progetto che possa tenere insieme le cose e le cose vengono tenute insieme secondo me non dalla come dire dall'egoismo anche del proprio progetto ma dalla visione del mondo e io quella francamente ho difficoltà a vedere io ho una mia visione del mondo poi quando ti chiedono che mi è capitato anche a me che ti chiedono di presentarti come candidato nelle elezioni tu dici no perché perché non riesci a riconoscere un soggetto politico nel quale tu ti possa riconoscere non dico pienamente questo non succede mai ma sufficientemente quella è una sfida politica che fino adesso mi pare sia persa o nessuno è in grado di affrontarla in modo sufficiente come dire c'è uno scarto secondo me enorme forse questo è il mio ottimismo c'è uno scarto c'è un enorme scarto tra la società e la politica la società è molto meglio della politica ma non perché se ne frega della politica ma perché produce politica ne produce tantissima ne produce tutti i giorni ne produce una quantità straordinaria che nessuno sembra essere in grado di trasformare in un progetto politico che possa essere riconosciuto da una da un'ampia maggioranza con le diversità le contraddizioni e così via questo mi sembra per come la vedo io io faccio un politico ma insomma per come la vedo io è il limite sì non ci si riesce a mettere d'accordo sui basics come direbbero i giovani insomma c'è qualcuno che vuole intervenire che avrebbe piacere a fare una domanda o io volevo provare a chiedere qualcosa al professore sì al professore Maida mi ha molto colpito il discorso iniziale che lei ha fatto quando ha detto che c'era come dire c'erano due facce degli italiani che non sono affatto brava gente no nelle guerre nell'uso di gas in tutto quello che hanno fatto e dall'altra di questi italiani che invece sono attivissimi nel diciamo virgolette volontariato per dire un concetto generico che poi vuol dire tantissime altre cose e allora poi sono venuti un sacco di altri elementi da mettere insieme e che riguardano di più l'attualità e la contemporaneità però mi pare che dovremmo tornare un attimo un po' più indietro a delle radici insomma di un noiato forte che c'è tra questa capacità anche di organizzarsi in piccoli gruppi in associazioni in quello che si vuole di volontariato per fare in modo attivo e spesso le donne sono in prima linea da questo punto di vista e è quella che si può chiamare politica ma secondo me io la chiamerei cittadinanza cioè il senso della cittadinanza ecco se possiamo vedere un pochino le radici di questo perché come mai succede perché succede dappertutto questo in Europa dico domanda qui non so se sono in grado di rispondere data la complessità di una domanda del genere che come dire da un lato verrebbe da dire da dove è partito il disastro da dove è iniziata la frana che però è un modo forse un po' semplificatorio perché sono processi complessi non è che c'è un momento in cui tutte le donne in crisi c'è una pluralità a me verrebbe da così da mettere in campo ma non come spiegazione ma come elementi su cui riflette partendo da lontano certamente c'è un tema cioè quello del fare i conti con la propria storia e fare i conti con la propria storia significa fare i conti anche con i propri crimini con le cose che abbiamo fatto fare i conti col fascismo fino in fondo che invece in questo paese sono conti che sono stati fatti poco e male faccio solo un esempio in una costruzione che è tipica del calendario civile che noi abbiamo su cui ci conosciamo sa tante cose non ci sono date che ricordano i crimini italiani nelle colonie cioè per dirne una siamo un paese che da un lato non fa quello ma dall'altra parte a Filettino fa la statua a Graziani cioè questi cortocircuiti sono ancora oggi strumento per poi poter dire certo la resistenza è divisiva e così via quindi c'è un problema secondo me prima di tutto di fare i conti con la propria storia che è una cosa che noi abbiamo fatto poco e male e questo secondo me ha prodotto come dire a cascata tutta una serie di spazi anche di spazi per chi può dire come il Presidente del Senato dire la parola antifascismo non c'è nella Costituzione l'altro giorno diceva gli studenti aggiungendo sono contento che il Presidente del Senato seconda carica dello Stato abbiamo scoperto che sa leggere e questo è importante lui sa leggere ed è vero non ha trovato la parola antifascismo a Costituzione perché non c'è dopodiché il problema ovviamente è diverso ma tutti quegli spazi sono concessi dai pochi questo è un primo elemento che io a me verrebbe da dire che è importante un secondo elemento è che qui abbiamo avuto in questo paese andando molto più avanti una crisi che è quella della Prima Repubblica che è rimasta di nuovo che non ha fatto i conti con la politica e con le sue trasformazioni e quindi ci siamo trovati un'altra valanga che arriva fino a noi oggi in cui che cosa ha vinto ha vinto di fatto quello che dicevo prima cioè ha vinto una cultura che è quella che possiamo sintetizzare lo so in modo un po' semplicistico però la cultura berlusconiana la cultura degli anni 80 e 90 dalla Milano da bere a Milano 3 di Berlusconi che è una cultura che ha dato come dire che ha rimesso in discussione alcuni fondamentali della politica ma li ha messi in discussione abbassando nel livello cioè mettendo al centro il leader anziché come dire la partecipazione snaturando il Parlamento nei fatti questo l'hanno fatto tutti pensiamo soltanto alla legislazione per decreto che avviene in questo paese cioè che ha di fatto cancellato o ha reso secondario si è trizzato come dire degli interessi e la politica deve fare gli interessi c'è un luogo di organizzazione degli interessi non che non lo sia il problema è quando diventa solo quello e organizza solo interessi anziché organizzare idee e così via cioè insomma questo è un altro elemento e poi sicuramente c'è un terzo elemento ripeto e non è una spiegazione sono le cose che mi vengono in mente rispetto alla sua suggestione un terzo elemento che è la crisi della scuola e cioè del fatto che sul piano dell'organizzazione della formazione dei giovani c'è stato un abbandono pressoché totale e la scuola non c'è stato un investimento significativo che hanno fatto tutti gli altri sulla nostra formazione sullo sviluppo educativo e così via cioè a me sembra che l'intreccio tra questi elementi produca oggi una debolezza della politica della cultura politica che poi probabilmente ha molti altri elementi adesso sono soltanto alcuni che mi venivano in mente di cui credo che ognuno di noi possa agire su uno o più di questi elementi io insegno penso che il mio cioè quando io la prima cosa adesso che dico agli studenti quando inizio un corso è che io insegno tre cose insegno conoscenze insegno strumenti ma insegno anche valori e chiunque viene da voi a dirvi che in realtà è neutro rispetto a quello che insegna vi sta mentendo no siamo tutti portatori di valori dobbiamo dichiararli bisogna metterli in discussione bisogna contestarli dall'altra parte ma riprendere quest'idea che non viene dall'alto la conoscenza ma viene dal confronto e anche dal conflitto questa è un'altra parola che a me piacerebbe molto forse di più utilizzata e cioè conflitto conflitto è una parola bellissima che invece è stata superata da tutte le idee di armonia della società vogliamoci tutti bene siamo tutti uguali cioè tutti uguali nel senso no non siamo tutti uguali io non sono uguale a un fascista cioè non lo sono e non lo sarò mai uguale a un fascista cioè non sono uguale a uno che vuole cacciare che è a favore di Frontex e a sparare sui balconi non sono uguale a quello ma proprio non lo sono e non lo sarò mai allora sul conflitto sul conflitto radicale totale sui valori e sui principi e forse forse partire anche da lì non sarebbe una brutta cosa io la vedo così mi sembra che Govetti dicesse che il conflitto è il sale della democrazia no? giusto? no no il conflitto cioè come dire dove non c'è il conflitto non è che vuol dire che siamo tutti d'accordo vuol dire semplicemente che non si discute e quindi un Parlamento per esempio che si muove soltanto per decreti legge non è soltanto grave perché viola un fondamento costituzionale ma è grave perché vuol dire che non c'è discussione e questo è drammatico è drammatico non c'è discussione lì non c'è discussione in televisione io a me hanno faccio un esempio a me hanno invitato qualche giorno fa a andare a una trasmissione in piazza pulita come si chiama o qualcosa del genere io non sono andato non sono andato perché so come funziona cioè vado lì ci sono quelli abituati a usare l'urlo come mod vai lì parli un minuto allora anche quello c'è l'uso dei mezzi pubblici i mezzi di comunicazione sono una grande questione che è rimasta di nuovo utilizzata nel modo sbagliato quindi più parliamo poi ne vengono fuori insomma per dire per dire che secondo me c'è bisogno di una grande riflessione culturale che metta al centro come dire davvero i valori costituzionali cioè le cose su cui siamo d'accordo perché quelle sono le cose fondamentali cioè su cosa siamo d'accordo quali sono le cose che ci legano indipendentemente da tutto e quello secondo me è una discussione che è proprio come dire il sale della politica insieme al conflitto cioè come dire i confini del nostro mondo valoriale non siamo ripeto io cosa c'ho da spartire come un fascista cioè poi come c'è come dire gli do tutto il diritto di parola non dentro l'università al basport ha tutto il diritto di dire quello che vuole non dentro l'università quello continuerà a contestare che un fascista possa venire a parlare in università ma se vuole parlare al basport lo faccia però non abbiamo niente in comune quindi questa cosa bisogna bisogna dirla rivendicarla quindi che noi abbiamo un presidente del senato che ha il busto di Mussolini in casa che ha rivendicato il fascismo che non si dice antifascista è una ferita non una ferita politica è una ferita costituzionale e bisogna continuare a dirlo poi non so se serve però non so non ho altri strumenti forse Ivan voleva intervenire ancora la discussione si sente? si ti sentiamo la discussione è di grandi interesse e non so se è possibile dargli continuità prossimamente perché qui si è partiti e si parte da un evento post liberazione dove pensiamo agivano aspetti di speranza aspetti di solidarietà perché è vero la cosa è stata gestita dall'UBI e dal partito comunista ma siamo a una post io per esempio parlo per quanto riguarda la zona dove si è sviluppata la resistenza e c'è il binomio Arrigo Boldrini Benigno Zaccaini tra l'altro ospitati ambedue nella casa della mia famiglia io non c'ero ancora quindi c'era un elemento di aggregazione tra comunisti e cattolici in questo caso e in una fase in cui si veniva io ho detto speranza perché si veniva dal primo voto delle donne tra l'altro e l'aspettativa la grande aspettativa della democrazia dopo un ventennio di vittatura ebbene i conti a fare 80 anni dopo questo è il problema cosa è successo di quei valori cosa è rimasto cosa si può riproporre qui c'è tutto un terreno di analisi cosa è successo dopo la rottura la rottura dell'unità nazionale il mondo diviso in due blocchi di influenza i morti nelle piazze da parte dello Stato allora i morti delle piazze ricordiamo Modena Reggio Emilia i morti nel sud poi abbiamo il periodo delle bombe fasciste anche come dire dall'altra parte le Brigate Rosse poi abbiamo il periodo dell'antipolitica Grazi Berlusconi io faccio un elenco Grazi Berlusconi poi c'è il virilismo poi c'è il renzismo questa è un po' la distruzione del concetto di politica in questo paese adesso veniamo da una situazione molto difficile dove abbiamo una disomogeneità sociale di valori nella nostra società è vero io apprezzo l'ottimismo l'ottimismo del del professor del professor Maier l'ho apprezzo e anche veniamo da una giornata di mobilitazione in Italia ieri si parla di 100 più di 100 mila persone a Milano ma anche le altre piazze sono state riempite questo è un fatto credo anche di novità perché non mi sembra che sia stata negli anni successivi alla celebrazione del 25 aprile ci sia stato come dire un senso diffuso così importante così massiccio posso sbagliarmi ma più di 100 mila persone a Milano è un grande risultato e quindi è un elemento di speranza e certo bisogna ripartire dal basso sapendo che gli elementi di rapporto e nella società sono molto cambiati e diversi rispetto al passato però se posso intervenire su quello che dici anzi è per quello che io da un po' di anni e anche adesso con un altro libro uscito adesso e poi successivamente mi sto interessando del dopoguerra un po' perché dopoguerra è una di quelle parole che a differenza di guerra non le riesci a rinchiudere quando finisce un dopoguerra boh non si capisce non si sa e non si può dire ma soprattutto perché quegli anni di a mio modo di vedere sono utili ripeto sempre i parallelismi valgono quello che valgono cioè fino a un certo punto perché in quegli anni sono stati anni in cui io la dico così tutto sembrava possibile tutto sembrava possibile e quindi le persone hanno agito si sono mosse molto spesso esattamente in questa dimensione di qualcosa che sembrava possibile realizzare un'idea una cosa concreta un mondo nuovo insomma anche con l'ingenuità e tutto quello che si vuole ma ecco ci sono fasi di quel genere diverse nel tempo e così via ecco però bisogna secondo me anche prepararsi a quelle fasi perché poi si spera che le cose non siano mai infinite però se ci pensiamo gli anni della resistenza i venti mesi della resistenza sono stati quelli oltre a essere lotta di resistenza sono stati anche grandi discussioni sul mondo che sarebbe forse chissà venuto dopo sono stati davvero la base della Costituzione sono stati davvero il luogo in cui si è discusso e si è preparato poi con tanti fallimenti sia chiaro con tante irrisolutezze con tante cose che non sono andate come uno sperava dubbio però io credo che quello io non sono un ottimista in natura però non importa io credo che quello che oggi noi dovremmo fare davvero è non continuare a inseguire il quotidiano poi ci si sta attenti il quotidiano la polemica del giorno e così via ma avere un'idea di chi pensa che poi verrà un giorno per dirla in cui le idee potranno trovare una come dire una capacità di esprimersi di realizzarsi diversa in questo momento questo è un momento di difesa da un punto di vista politico e pratico ma anche il momento in cui proprio perché almeno fino a quando non bisogna andare sulle montagne voglio dire è anche possibile costruire molte cose di riflessione su questo ecco questo è un non dico che su un'occasione se non sembra Tremonti che quando diceva la crisi un'occasione ma crisi ricordo chi ci ascolta è una parola che viene dal greco viene dalla medicina e significa il punto del picco della malattia e cioè quando la malattia può andare verso la guarigione o può andare verso la morte per così dire ecco se noi intendiamo la crisi da questo punto di vista cioè come un luogo in cui noi possiamo scegliere per noi stessi perlomeno da che parte vogliamo andare da che parte vogliamo stare questo secondo me è il compito che in questo momento come cittadini intellettuali o qualunque altro tipo di funzione noi abbiamo beh questa cosa la possiamo la possiamo fare e perché noi non siamo in un dopoguerra ma siamo in una fase in cui il mondo almeno a me e a molti appare in pericolo da tanti punti di vista appare pessimo da tanti punti di vista ma però bisogna prepararsi anche al dopoguerra intendendo dopoguerra quello che vogliamo prepararsi al dopoguerra significa combattere per i valori ma significa anche ragionare su quale mondo vogliamo questo ecco io trovo che in tanta lotta per i valori non ci sia spesso invece riflessione sul mondo che vogliamo questo mi sembra il limite maggiore del tempo in cui viviamo adesso senza parlare di qualcosa perché se no mi trasformi in un filosofo cosa che non sono neanche un po' e faccio lo storico i problemi sono gli strumenti per dare vita al confronto dei valori faccio un esempio i miei erano brazzanti una famiglia povera con quello che può entrare del salario dei brazzanti nella mia casa c'era quinta elementare unità faccio l'elenco metà del salario andava via l'unità via nuove il calendario del popolo noi donne poi è arrivato il pioniere per il sottoscritto per dire c'era una immensità di elementi per cui ti cimentavi quei problemi anche di un certo livello sul piano anche politico sul piano economico sul piano strategico adesso questo non c'è più è cambiato abbiamo i mass media abbiamo l'influenza delle fake news distruttive abbiamo questo è il dato quindi dobbiamo fare i conti dobbiamo dico dobbiamo il mondo la società il progresso deve fare i conti la politica la nuova politica deve fare i conti anche con la necessità di nuovi strumenti che ti permettono dal basso anche una circolazione delle idee della conoscenza la scuola dovrebbe essere uno degli elementi fondamentali purtroppo io ringrazio Ivan per le sue considerazioni e ringrazio anche Bruno ovviamente sì ottimismo moderato ma soprattutto mi viene da dire la capacità di vedere il futuro un po' di tempo fa era stato pubblicato quel libercolo indignatevi no? sì sì indignarsi va bene però poi dopo bisogna capire cosa si può fare con la propria indignazione quindi direi di prendere questo come una riflessione comune e quindi di fare un po' di prassi teoria prassi tanta prassi per cercare ognuno nel nostro piccolo di essere un cambiamento positivo magari è una chiusura un po' ecumenica ma voglio dire rispetto a l'eterogeneità delle no? delle parti e della ottima riuscita di questo episodio che siamo riusciti a ricostruire a commentare grazie a professor Maida penso che su questa base possiamo forse salutarci anche per stare nei 90 minuti che abbiamo un po' sporato che c'eravamo dati bene grazie a tutti per questa pazienza ad ascoltare grazie a Lampidi esiste direi grazie grazie a te Bruno se magari vuoi voglia di fermarti ancora un secondo dopo che sono usciti tutti ci salutiamo ancora per bene grazie a tutti di essere intervenuti arrivederci a tutti buona serata